Buongiorno buona gente, questo cordiale saluto vi giunge nuovamente dagli studi di ETV per la nostra vostra rassegna stampa. Il nostro sito è tvmarket.it, quelle tre poltrone vuote che indicano come ancora non ci siano i sostituti dei tre assessori divenuti parlamentari. Dovrebbe essere però questione di ore il nome buono per sostituire il Carlo Ciccioli che sembrava oramai destinato all'assessorato e quello di Goffredo Brandoni. Ieri in riunione di maggioranza sono stati fatti i tre nomi dei sostituti, Antonini Biondi appunto il nome di Brandoni dovrebbe esserci qui la quadra. Dai nomi per la regione Marche ai nomi per il governo. Rispetto alle notizie di ieri riferite a ieri l'altro, all'incontro Berlusconi-Meloni nella sede di Fratelli d'Italia, all'incontro chiarificatore, pace fatta eccetera eccetera. Tutto sbagliato, tutto da rifare come avrebbe detto Gino Bartali, grande e immenso campione di ciclismo. Gino Bartali bisogna conoscere delle storie belle, Festival Storie me lo ha permesso, saluto in particolare l'amico Fabio Paci. Gino Bartali, pensate, campione di ciclismo durante la guerra faceva da staffetta, nascondeva nella canna della bicicletta messaggi da portare ai partigiani rischiando la sua vita. Lo sconcerto di Meloni per Berlusconi-Shock, la posizione italiana sulla Russia non cambia perché? Perché Berlusconi ieri è tornato a parlare di Putin, un uomo di pace, sono il primo dei suoi cinque veri amici, ci siamo scritti delle lettere tenerissime, dolcissime, ci siamo scambiati lui vodka, io vino. Ho riallacciato con Putin, l'audio di queste dichiarazioni esiste, addirittura Gino Bartali, ieri pomeriggio Berlusconi avrebbe anche smentito, ma poi è spuntato l'audio che lo avrebbe in qualche modo incastrato alle sue responsabilità. Io quest'audio ce l'ho, lo sto preparando, ve lo faccio sentire, poi dopo ognuno di voi si fa la propria idea, come è giusto che sia. Ecco l'audio di Berlusconi che parla di Putin, sentiamo. I russi, in diverse occasioni, hanno detto che noi siamo già in guerra con loro, perché? Perché vogliamo armi e finanziamenti all'Ucraina. Io personalmente non posso esprimere il mio parere, perché se poi viene raccontato da stampa o altro, eccetera, che fuori un disastro, però sono molto, molto, molto preoccupante. Ho rilasciato un po' il rapporto con il Presidente Putin, un po' tanto, nel senso che per il mio compleanno, con il mandato di 20 bottiglie di vodka, è una lettera dolcissima. Io vi ho risposto con delle bottiglie di Lambrusco, che è una lettera altrettanto dolce. Io ero stato dichiarato da lui il primo dei suoi cinque veri. Amici, il primo dei suoi cinque veri amici. Queste le parole di Berlusconi, visto che in tanti state scrivendo rispetto a questa situazione, ecco, le parole direttamente da parte di Berlusconi, in modo tale che, al di là dei fraintendimenti, delle interpretazioni, questa è la voce di Berlusconi, fatevi voi una opinione. C'è una storia, prima di rituffarci sulle notizie locali, che voglio assolutamente raccontarvi, perché qui davvero siamo di fronte ad una tragedia immane sfiorata, fortunatamente. A Cagliari, crollo in università, nessun ferito, ma fino a pochi minuti prima, in questa struttura che vedete finita in macerie, c'erano tanti studenti. Poteva essere una strage, saluto intanto Ilva. Fino alle 19.30 erano qui presenti studenti, nessuno è rimasto sotto le macerie, ma davvero un miracolo, un miracolo vero e proprio. Le notizie marchigiane, scorpacciatona di titoli, partiamo da Ancona, restyling degli archi, però fuga dei negozi, lavori conclusi, ma sotto i portici ci sono oggi tanti locali vuoti. Servono eventi di qualità per poterci attirare, mancano attività caratteristiche, troppi kebab, non possiamo orientare noi il mercato. Questo spiega e risponde così l'assessore Sediari. Sassate, cavi tagliati, vandali shock, siamo a Torrette, covo di ragazzini nel palazzo Viola, fermateli. Questo l'appello anche dei residenti, ma la questione delle baby gang purtroppo è diffusa in tutta la regione. Ti faccio a pezzetti, in carcere lo stalker di un'avvocatessa. La giustizia in questo caso ha reagito prontamente. Prende a pugni il rivale in amore, agguato nel park. Succede ad Ancona, poi a Falconara. La vicenda dei fidanzatini rapinati in spiaggia. I due bulli vengono condannati. Questo per quanto riguarda la notizia della cronaca da Falconara. La morte di Maddi Urbani, la vicenda tristissima. 21 anni al pusher per la richiesta del pubblico ministero, la figlia di Carlo Urbani, l'infettivologo di Castelpanio, che pagò con la vita il suo riuscire a individuare la SARS, una sorta di Covid antelitteram. La sua scoperta però evitò una pandemia mondiale. La procura di Roma ha chiesto 21 anni per il pusher e 14 per l'amica di Maddalena, la figlia del medico eroe Carlo Urbani, stroncata nel marzo del 21 da una mix di droghe. Poi il 19 novembre, una buona notizia, l'Italia Under 21 giocherà contro la Germania. L'antipasto di questo evento sarà un pochettino in termini di successo, di clamore e di gusto per lo sport, lo sport quello sano che porta a soddisfazione. Venerdì sera a Matelica ci sarà la Nazionale Cantanti in onore di un'associazione Lulù e il Paese del Sorriso. Una festa di solidarietà, già mille i biglietti staccati. Le notizie ora nazionali, di nuovo dopo l'edizione di Ancona, passando come sempre attraverso i vostri messaggi. Ilva, Marco, Isnardo, Patrizia, buongiorno, mi fa piacere ricevere i vostri messaggi. Baby Gang e qualche Bucato, se è una battuta non l'ho capita. Ah, qualche Bucato, scusate, c'era l'accento che fa tutta la differenza del mondo, perché Bucato sono i panni da lavare. Bucato, dalle parti dell'Anconetano, nell'Interland Anconetano, è invece un termine che definisce lo scapaccione, il buffetto educativo, diciamo così, un po' troppo buffetto. Molto buffetto e poco educativo. Insomma, sulle Baby Gang bisogna lavorare, dal mio modesto punto di vista, in termini culturali, educativi, non tanto dal punto di vista, invece, repressivo, altrimenti rischiamo di fare peggio. Ancora notizie, Pesaro, botte alla moglie davanti ai tre figli, inchiodato da referti e testimoni. Ascoli, anzi, San Benedetto, il blitz del Vescovo, Monsignor Bresciani piomba al mercato ittico per benedire il lavoro dei pescatori. La storia da macerata, terribile, procura droga alla figlia per avere rapporti sessuali con lei. Un autotrasportatore condannato a nove anni. Poi Natale, abbiamo fatto il punto, Fermo, Pesaro, Ancona. Che Natale sarà? Verrà messo l'albero, verranno accese le luminarie, ci sarà la pista di pattinaggio. Ecco, per esempio a Fermo, il sindaco taglia le luminarie e l'albero meccanizzato. In forse anche la pista sul ghiaccio. Infine, da Ancona spara ai passerotti da dentro la macchina, cacciatore nei guai e fucili sequestrati. Insomma, una roba del genere non si fa. Ieri sono cominciate le vaccinazioni per l'influenza stagionale, ma addirittura anche per la quinta dose. Covid, contagi in frenata, e questo è importante, via libera alla quinta dose. Ma come? Ancora non avevamo neanche vaso alla quarta, già c'è la quinta. La quarta, infatti, non decolla. Sono 72 mila i marchigiani iniettati con il secondo booster, copertura del 12%. Da lunedì gli anziani e gli over 60 fragili possono prenotare addirittura il nuovo richiamo, perché sono passati mesi dall'inizio della campagna della quarta dose e quindi per gli anziani e per gli over 60 fragili è già possibile iniziare con la quinta dose. Dopo cinque settimane di crescita continua, con picchi fino all'80% in sette giorni, e facciamoci caso, quanti di voi hanno notato in famiglia, in casa, nella cerchia degli amici, dei colleghi? Ma sì, effettivamente c'è un contagiato là, c'è un caso Covid di qua, in famiglia, tra gli amici. Perché? Perché c'è stata una curva in crescita per cinque settimane consecutiva e adesso la situazione sta migliorando. Noi abbiamo chiesto conto di questo all'assessore Saltamartini. Gli esperti dicono che sostanzialmente il progressivo superamento della mascheria determina una diffusione del virus influenzale ordinario maggiore e quindi ci dobbiamo preparare. A differenza degli ultimi due anni che hanno visto diminuire i casi di influenza sul nostro territorio, quest'anno le previsioni parlano di un forte innalzamento dei numeri o, se vogliamo, di un ritorno ai dati pre-pandemia, colpa soprattutto del venir meno delle misure anti-Covid a partire dall'uso della mascherina. Fortemente raccomandata dunque la vaccinazione, spiega l'assessore alla sanità Saltamartini, soprattutto per le categorie più a rischio, fragili e anziani. Da oggi c'è un volume di dosi 379 mila a disposizione dei cittadini, è caldamente consigliata alle persone con più di 60 anni e la prestazione è gratuita. Può essere fatta questa vaccinazione come di solito dai medici di medicina generale o nei punti vaccinali oppure anche nelle farmacie con cui abbiamo allestito un accordo. Dall'anti-influenzale al vaccino Covid è già tempo infatti di iniziare a parlare di quinta dose, per lo meno per anziani e fragili. Il Ministero con una circolare che è arrivata stamani ha autorizzato la somministrazione della quinta dose per le persone che avendo ricevuto la quarta dose da più di 120 giorni possono ricevere la quinta dose. Sostanzialmente questa quinta dose può essere richiesta dalle persone che hanno più di 60 anni ma anche in questo caso è caldamente consigliata per le persone con più di 80 anni e le persone che hanno delle patologie i cosiddetti fragili. Questo per quanto riguarda addirittura la quinta dose della serie. Incredibile ma vero per alcuni. Sassate, estintori accesi e cavi tagliati. Qualcuno fermi, i vandali ragazzini. Siamo nel quartiere difficile di Torrette. Il Palazzo Viola è assediato. Danni alla vetrata della parrucchieria non ne possiamo più. Queste le foto che trovate pubblicate dal giornale. Cos'altro dovrà succedere prima che qualcuno decida di porre davvero un freno ai teppisti di Torrette? C'era chi poco fa proponeva addirittura il classico rimedio fisico che però è sconsigliabile. Quando si alzano le mani si passa sempre dalla parte del torto. Questo insegnano i saggi. Larengo non taglia la luce. Pesaro, Fermo, Ancona, Ascoli. Si parla del Natale. Per adesso nessuna riduzione della pubblica illuminazione. C'è stato però un guasto sulla circonvallazione. L'appello ai commercianti ad aderire alla rete del fotovoltaico per alleviare il caro Bollette. Questa comunità energetica che il Comune di Ascoli ha lanciato. Proposto al sindaco un'intervista. Vedremo se riusciremo ad ottenerla. La cronaca. Muore accoltellato dopo la lite. La vittima è un operaio di 29 anni. Grado dell'omicida. Trovate la notizia anche sul nostro sito. Etvmarche.it È successo a Sant'Elpidia Mare un litigio tra vicini di casa sfociato in tragedia, in violenza. Lavoratori in piazza a comunanza per difendere il sito Whirlpool. E poi ancora Ascoli. Igiene degli alimenti e geriatria. Pronta la terna dei primari. Grotta Mare. I writers sono liberi. Ora potranno fare ritorno in Italia. Una bella notizia per in particolare le famiglie con il fiato sospeso. Quella di Grotta Mare e quella di Monte San Vito. Perché due dei quattro writer imprigionati per giorni in India sono marchigiani. Meno barche in mare inevitabilmente salgono i prezzi del pesce. Le ripercussioni sull'asta del mercato ittico. La visita all'alba al porto della vescovo Monsignor Bresciani. Da un lato i pescatori che devono ridurre le uscite per far fronte all'esponenziale aumento del gasolio. Dall'altro i grossisti che con meno pesce all'asta e meno barche in mare guardano con preoccupazione al mercato dei prezzi. Tanti messaggi da parte vostra. Buongiorno Maurizio. Volevo fare gli auguri alla mia dolce mamma Margherita che oggi spegne 88 candeline ed è ancora in gamba. Ci scrive Mara. Grazie Mara. Mandaci una foto di questa bella mamma perché le mamme non hanno un'età. Non esiste catalogarle sotto l'aspetto dei numeri. Hanno una forza, un'energia che si fa beffe della carta d'identità. Viva le mamme, viva le mamme. Buongiorno Maurizio. Qui serve chiarezza. Ci scrivono per quanto riguarda i vaccini. Dicono che si possono fare nello stesso momento sia anti-influenzale che covid, una in un braccio e una nell'altro. Ma se l'anno scorso si dovevano fare a distanza di almeno due settimane. Guarda, io ti ringrazio per questa domanda legittima. Anche io avevo questo dubbio. Ho intervistato nei giorni scorsi sia un medico di medicina generale che è stato tra l'altro presidente della commissione sanità della regione Marche nell'ultima legislatura. Quindi una figura autorevole, parlo del dottor Volpini, sia, abbiamo sentito poco fa, il primo responsabile della politica sanitaria marchigiana, l'assessore Saltamartini, dire la stessa cosa. Ciao Maurizio. Le restrizioni anti-inquinamento, arriva anche questo messaggio, sono tantissimi gli sms sul fatto che dal primo di novembre, occhio, le macchine vecchie devono restare in garage. Saranno valide anche per i veicoli commerciali grazie da Gianluca. Gianluca, ci saranno dei distinguo che però ti vado a specificare meglio tra poco per i veicoli commerciali. Per quanto riguarda i veicoli, per esempio, a metano, a GPL, quelli che portano, trasportano persone diversamente abili, abbiamo già detto, si potrà comunque circolare. Se si parla però di auto ante 2006, quindi anche 31-12-2005, si tratta di Euro 3 e quelli dal primo di novembre non possono circolare, tranne che nel weekend e in certe fasce orarie. Non è un divieto assoluto. Fatemi tornare ai giornali, abbiamo fatto Ancona, Ascoli, andiamo a Macerata con il Corriere, ancora Scorpacciatona di notizie, altra rissa, paura sul lungomare, l'allarme a Civitanova, fuggi fuggi all'arrivo dei carabinieri, tracce di sangue vicino al sottopasso. Parapiglia, che si è scatenato tra nordafricani, poi proseguito in via Marco Polo, identificati due giovani ubriachi. La vicenda di Cronaca, che ha scosso un po' la regione Mar, che ha assassinato un operaio 29enne nel Fermano, grave l'omicida. Siamo a Sant'Elpidio a Mare e noi su questo abbiamo un servizio. Un'animata discussione tra coinquilini è finita in tragedia in una palazzina nella frazione di Bivio Cascinare, nel comune di Sant'Elpidio a Mare. A perdere la vita, nella serata del 17 ottobre, è stato Saswan Singh, indiano 29enne, ferito all'addome con un coltello di 30 centimetri usato per la raccolta degli ortaggi. Secondo le prime ricostruzioni, il fendente letale sarebbe stato assestato da un connazionale di 60 anni, con il quale condivideva l'appartamento lungo viaturati. Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte degli inquirenti per accertare la dinamica del delitto e le eventuali responsabilità di una vicenda con i contorni ancora tutti da chiarire. Vicenda che sarebbe stata alimentata dall'abuso di alcol e culminata nella lite e la successiva aggressione. In serata si sono precipitati inviaturati i militari del norma di fermo e i carabinieri di Sant'Elpidio a Mare, coadiuvati dal nucleo investigativo del reparto operativo che continuano nelle indagini. Di sicuro sono stati vani i tentativi da parte dei sanitari del 118 di rianimare il giovane quando intervenuti alle 23.30 dopo la chiamata disperata di un altro indiano. Singh è morto in seguito ad una grave emorragia interna che ha provocato un arresto cardiocircolatorio, ma anche l'uomo più grande è in condizioni critiche, anche egli con una vistosa ferita all'addome. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Civitanova nel reparto di rianimazione dove improgno si è riservata e lotta tra la vita e la morte. Il 29enne lavorava in un suo olificio di Civitanova, il 60enne invece in una nota azienda di Sant'Elpidio a Mare che produce frutta e verdura. Il coltello è stato posto sotto sequestro, come anche l'appartamento dove vivevano. La salma di Singh è stata affidata all'obitorio dell'ospedale di fermo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Questo per quanto riguarda la vicenda di cronaca di Sant'Elpidio a Mare. Buongiorno Maurizio, buongiorno Bella TV su Berlusconi che uomo poveri noi. Il riferimento è al tema Berlusconi emerso ieri con questo audio. Ve l'ho fatto sentire proprio perché volevo, ed è questo lo spirito di Buongiorno TV e di ETV in generale, volevo che voi sentiste per farvi un'idea piuttosto che sentire quel giornale piuttosto che quell'altro, interpretare le parole di Berlusconi. Un audio nel quale Berlusconi dice Ho riallacciato i rapporti con Putin, mi ha mandato della vodka per il mio compleanno, una lettera dolcissima alla quale io ho risposto con una lettera altrettanto dolce. Addio, siamo ancora ai giornali locali, addio a Gino Brandi. Il decano dei pianisti fu un enfant prodigio, un piccolo prodigio, sin da piccino. Macerata, abusi nel reparto, condannato un infermiere. Ancora macerata la figlia di Pamela, Pamela Mastropietro. L'inchiesta bis non va archiviata. C'erano altre persone che avrebbero partecipato all'omicidio accanto a Innocent o Segale. L'appello della famiglia è che si continui a indagare rispetto alla morte di questa ragazza uccisa, fatta a pezzi e ritrovata in due valigie. Sospetto overdose in casa, siamo a Civitanova. Muore un papà di soli 45 anni. La tragedia in via d'annunzio è stata aperta. Un'indagine ex dipendente comunale è deceduto in ospedale. Aveva un passato difficile. Caro bollette, boom di richieste alla Caritas. E noi parleremo anche di questo domani sera a punti di vista. Avremo ospiti proprio rappresentanti della Caritas regionale. Per chi ha davvero bisogno ci sono degli strumenti. Ieri abbiamo citato come ad Ascoli il Comune abbia deciso di lanciare dei bonus davvero importanti in termini anche economici. In certi casi pure più soldi di quanto non abbia fatto il governo Draghi per le famiglie in difficoltà. Fino a 300 euro per nuclei familiari di quattro persone. Segno insomma che qualche tentativo di aiutare le famiglie c'è. Però va a spot a seconda dei comuni. Ed è anche questo il tema, cioè a seconda dei comuni, che mi aiuta a rispondere alla richiesta di poco fa di un cittadino che ci diceva vale anche per i veicoli commerciali questo stop alla circolazione dal primo di novembre. Io ci devo campare, ci devo lavorare con il mio furgoncino, diceva un altro messaggio. Allora la notizia è questa qua, è di ieri, ma in tanti continuate a chiederla. Ecco il piano anti-smog da novembre, dal primo novembre, limiti per le auto. Da lunedì al venerdì, previsto lo stop per otto ore al giorno, appunto da lunedì al venerdì, per le auto diesel delle categorie euro 1, 2, 3, quindi fino al 31-12-2005. E per quelle a benzina ante-euro ed euro 1, 2, 3, per le moto ante-euro e ciclomotore e motore termico ante-euro. Quali sono le deroghe? Quelle ufficiali sono queste qua. Le deroghe, quindi l'esenzione vale per i mezzi sanitari, mezzi di soccorso, forze dell'ordine, veicoli al servizio delle persone invalide, mezzi elettrici, chiaramente, ibridi a gas metano, GPL e idrogeno. Non ci sono, possiamo leggere, eccezioni per i mezzi commerciali, quindi un furgoncino del 2000 che gira ancora per fare le consegne, in teoria si dovrebbe fermare. Come faccio a campare? Giustamente chiedo il messaggio. Ci saranno delle deroghe, ogni comune, eccolo qui, potrà concedere permessi temporanei in deroga. Quindi sarà poi compito dei comuni prendere questa norma regionale e farla propria. Non spegneremo le luci. Luminari addobbi di Natale, siamo già a Pesaro. Il sindaco vuole la festa, ma si studiano modi per risparmiare. Intanto la provincia chiede un piano, riduce l'orario dei riscaldamenti e vieta l'uso delle stufette. La sede della provincia di Pesaro fa un po' economia così. 180 mila euro intanto per il rischio esondazione. Siamo sull'Arzilla dove ci sono ancora detriti, legna. Lo stesso ci è stato segnalato nella zona di Senigallia. E se dovesse piovere ancora? Allora ecco, 180 mila euro per il rischio esondazione. Ma il problema qual è? Che i famosi soldi promessi dal governo immediati, è passato più di un mese e i soldi non sono arrivati. Lo dice, non il sottoscritto, lo dice l'assessore regionale Aguzzi. Noi stiamo accelerando proprio in queste ore la chiusura di tutta la contabilità con i vari comuni per quelle che sono state le cosiddette somme urgenze, cioè i lavori che i comuni e gli enti locali hanno fatto per poter ripristinare la viabilità e la funzionalità dei territori. Queste somme ammontano circa a ieri, ma ancora stanno arrivando, a 78 milioni. Iniziano ad arrivare i primi conti dell'alluvione, numeri provvisori però, e che si riferiscono solo alle opere urgenti effettuate dai comuni. Dunque la contabilità speciale aperta dal governo, spiega l'assessore alla protezione civile Stefano Aguzzi, dovrà essere incrementata e di molto anche. La contabilità speciale è stata aperta da parte del governo e sono stati versati attualmente i 5 milioni che ci erano inizialmente garantiti. Curcio a suo tempo si è detto disponibile a ragionare sulla cifra che servisse ecco, a questo punto la cifra non sono certo 5 milioni, ma sono molti, molti di più. Questo lo sapevamo e ce l'aspettavamo. Senza contare i ristori per imprese e privati, tutti ancora da quantificare. Per ora sono state stabilite solo le cifre cosiddette di primo intervento. Sono già state inviate le cartelle per quel che riguarda i ristori alle famiglie, che devono essere di 5 mila euro a famiglia e di 20 mila euro per le ditte come, diciamo così, un primo intervento a ristoro per ripristinare il minimo di funzionalità e per quel che riguarda le famiglie e per quel che riguarda le imprese. Questo è quanto la protezione civile fa e può fare come emergenza urgenza. E dopo questi primi ristori, nulla di certo ancora, conclude l'assessore Aguzzi. Ad oggi resta solo la promessa del governo Draghi. Draghi aveva dato, diciamo così, delle rassicurazioni su questo. Spero che vengano in qualche modo mantenute. Speriamo, speriamo che appunto questi 5 milioni vengano subito il più presto distribuiti ancora. Gli alluvionati chiedete conto, non affidatevi solo alle mie parole, chiedete conto agli alluvionati, chiedete che sono arrivati i soldi, ma di che sarà la risposta. Intanto la Rengo, siamo ad Ascoli, non abbassa le luci, la sicurezza dei cittadini prima di tutto, si risparmia con i lampioni fotovoltaici. Quindi la scelta fatta per un certo periodo dal Comune di Ancona di spegnere le luci prima dell'alba, il Comune di Ascoli dice no, non lo faremo. Qualche buona notizia anche legata allo sport. La tappa a Fossumbrone del Giro d'Italia, abbiamo detto venerdì, Amatelica, Stadio Giovanni Paolo II, la Nazionale Cantanti. Il 19 novembre, altra iniziativa bella, arriva alla Nazionale Under 21, in questo caso al Del Conero di Ancona, per Parco Indicio Geografica. Andiamo a Fossumbrone per la tappa del Giro d'Italia, un'occasione senza precedenti. È stato presentato il nuovo Giro d'Italia che passerà per le Marche, per la precisione, proprio a Fossumbrone. 349-3918169, un saluto a proposito delle Marche belle, ciao da Saverio di Corridonia, le nostre albe, tanta roba, guardate che spettacolo, tanta roba le tue foto. Caro amico Saverio da Corridonia, azzecchi sempre, davvero azzecchi sempre la foto giusta nel momento giusto, quando più abbiamo bisogno di ricordarci della bellezza. Livio, Renato, Carla, buongiorno, Vania, le famiglie arrancano, le bollette lievitano, il lavoro manca, si blocca di fatto l'uso della macchina, proprio a chi, non avendo soldi, non ha potuto comprare auto più moderne. Complimenti, e mi pare sia un complimento sarcastico quello che l'amica Vania rivolge all'amministrazione regionale. Questa notizia vedo così come ieri, anche oggi vi fa un sacco arrabbiare. Da Pesaro a San Benedetto del Tronto, Marche, il piano anti-smog, dal primo di novembre, le macchine vecchie. Cante lui. Venerdì 21 ottobre alle 20.30 allo stadio comunale di Matelica, partita di calcio fra nazionale italiana cantanti e amici per la vita. L'incasso sarà devoluto a Lulu e...